Buongiorno a tutti e ben ritrovati con il Nova Notizie, l'edizione odierna del nostro telegiornale, ospita il consigliere regionale di Forza Italia Oscar Cherchi, buongiorno. Parleremo con Oscar Cherchi di diverse tematiche a livello comunale e a livello regionale partendo dalla stretta attualità, attualità che parla del comune di Oristano e della crisi che sta attraversando la giunta Tendas. Stamattina due gruppi consigliari dell'opposizione ovvero Udc e Idee Rinnovabili, i cui capi gruppo, lo ricordiamo, sono Giuliano Uras e Salvatore e l'EDA hanno chiesto e inviato alla regione una lettera con cui chiedono il scioglimento del consiglio comunale di Oristano. Chiedono lo scioglimento richiamando alla normativa nazionale esattamente il decreto legislativo numero 267 del 18 agosto del 2000, un decreto che prevede che la mancata adozione degli eventuali provvedimenti di riequilibrio è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione. Pertanto adesso si applica la procedura stabilita dall'articolo 141,2 del medesimo decreto. I consiglieri ricordano anche quali sono state le tappe che hanno visto il consiglio comunale impegnato nel tentativo di approvare il riequilibrio di bilancio, ovvero con la convocazione del 27 luglio del 2016 e con il provvedimento che è stato bocciato con 13 voti contrari e 12 favorevoli. I due gruppi consigliari chiedono pertanto alla regione quali sono le motivazioni di un comportamento da parte della regione stessa così irresponsabile. Ricordiamo per la cronaca che la regione ha chiesto semplicemente al comune di Oristano come a tutti i comuni della Sardegna, qual era lo stato dell'arte sull'approvazione dei riequilibri di bilancio e ha concesso una proroga al comune di Oristano come a tutti gli altri comuni. Infatti due giorni fa la riunione dei capigruppo in consiglio comunale di Oristano ha deciso di convocare nuovamente il consiglio comunale nelle date del 29 e 31 agosto. Ad Oscar Kerchi chiediamo innanzitutto se è d'accordo con questa presa di posizione dei due gruppi consigliari oristanesi. Sicuramente è d'accordo perché lascia veramente perplessi il fatto che la stessa regione possa rispondere facendo un cumulo generale della situazione regionale di tutte le amministrazioni, di tutti gli enti locali e regionali e dando quindi anche la possibilità al comune di Oristano di riapprovare o di tentare nuovamente di riapprovare il rendiconto del comune. È una situazione veramente incredibile, si è già espressa l'assemblea consigliare, l'assemblea consigliare ha detto no, ha respinto quel rendiconto, il che significa che già un risultato esiste, io capisco amministrazioni che ancora non sono riuscite a portare il rendiconto in consiglio e quindi non hanno avuto nessun tipo di approvazione, ma il comune di Oristano è palese, il comune di Oristano ha già votato, quindi lascia veramente perplessi in questo ginepraio di interpretazioni, oramai siamo abituati a questo sistema, inventarsi delle idee istantanei, giusto per interpretare la norma e dare così spazio a un'amministrazione, in questo caso amica, perché questo bisogna riconoscere che è la stessa posizione politica, la stessa coalizione politica e dare la possibilità di un nuovo tentativo, di riprovaci, può l'assi che sarai anche un attivino più fortunato. Ritengo però che questo comunque sia un errore enorme che sta facendo in questo momento l'amministrazione regionale e credo ancora di più quella comunale. Lei è tra quelli che ritiene che sia meglio che a Oristano arrivi un commissario prefettizio piuttosto che non finisca la legislatura? A me dispiace perché il commissario prefettizio non è eletto dai cittadini, non è eletto dalla comunità e quindi dispiace che si debba arrivare ad una soluzione di questo tipo. è che però si è arrivati ad un punto tale di oramai non ritorno che credo che forse per questi mesi sarebbe realmente meglio avere un amministratore esterno alla situazione politica oristanese che dia un po' più di respiro in questi ultimi mesi e poi dia la possibilità nuovamente ai cittadini oristanesi di scegliere, stavolta con un po' più di cognizione di causa e un po' più di attenzione. Il rappresentante di Forza Italia in Consiglio Comunale è Andrea Luzzo che più volte ha ribadito il giudizio negativo su questa giunta. Ma sì, questa giunta ha la fortuna di avere un'elezione quattro anni fa e quindi un riconoscimento da parte della cittadinanza con un grandissimo, come lo possiamo definire, budget a disposizione per realizzare tanto al Comune di Oristano e quindi nella nostra amministrazione. È chiaramente un'eredità che loro si trovano, tanto lavoro svolto negli anni precedenti, un'amministrazione finita non bene per ragioni interne, di incomprensioni interne, questo capita quando soprattutto ci sono varie idee correnti che la pensano in modo differente, per carità legittimo e democratico anche questo, è finita in quel modo, questa nuova amministrazione di centro-sinistra si è trovata un grande patrimonio da gestire. e invece in realtà non è riuscita a gestire praticamente niente. Di oltre 15 milioni di Euro, compresi anche il Comune di Santa Giusta e il Comune di Palma Sarborea, che avevano molto meno a disposizione, ma più di 10 milioni di Euro erano pronti per l'utilizzo per sistemare l'area marina di Torre Grande, il Porticciolo, altri 5 milioni e mezzo erano proprio dedicati al Porticciolo, la strada di collegamento da Torre Grande al Porticciolo, insomma dare un po' di sviluppo turistico e anche dare un po' di, diciamo così, di nuova linfa al mondo imprenditoriale oristanese. Sono andati persi, poi si sono giustificati dicendo quei soldi non ci sono mai stati, assurdo, veramente assurdo perché i soldi erano lì e non li hanno saputi utilizzare. Lo stesso vale per tante altre iniziative e altri finanziamenti che sono arrivati, hanno perso praticamente tutto, hanno tentato e stanno tentando in quest'ultimo periodo di dare ultimi cantieri per cercare di dimostrare che qualcosa è stato fatto, però in realtà non sono io solo che do questo giudizio, ma il giudizio oramai di tutta la comunità, di tutta la città di Oristano è un giudizio veramente negativo. Se il centro-sinistra ha vinto nel 2012, insomma complice anche le divisioni nel centro-destra, alla luce di quell'esperienza state lavorando per riunificare il centro-destra o comunque mettere insieme diversi partiti, diverse liste civiche? Sì, il lavoro che stiamo facendo è quello chiaramente di riunificare la base di chi crede nel vero progetto del centro-destra, ma soprattutto di chi crede realmente nel bene della città di Oristano, questo credo che siano le basi di partenza, un centro-destra unito io non penso che abbia grandi difficoltà a vincere a Oristano, la storia lo insegna, oramai l'ha dimostrato, quindi non è difficilissimo, è chiaro che però per stare all'interno di una coalizione bisogna mettere da parte gli egoismi personali, bisogna dimenticarsi completamente che i ruoli devono essere condivisi, che non esistono prime donne e che bisogna avere l'umiltà di essere a disposizione non solo chiaramente della coalizione, del programma, ma soprattutto della città di Oristano. Se noi riusciamo a ottenere e a chiudere questo cerchio in questo modo con un'idea chiara anche di sviluppo della nostra città, io penso che non ci sarà difficoltà a vincere le prossime elezioni comunali. Se qualcuno invece crede ancora di fare fuga in avanti ed è convinto dell'unica capacità di poter gestire, di poter amministrare, credo che sarà difficilissimo anche stavolta riuscire a vincere e quindi divisi non si va da nessuna parte, anche questo la storia oramai ce l'ha dimostrato, non solo a Oristano ma nel resto del territorio regionale in tutta Italia dimostra che quando si va divisi non si arriva da nessuna parte. Intanto è vero che Forza Italia insieme a Udc e Riformatori ha chiuso un'alleanza? Noi abbiamo fatto un incontro chiaramente a livello regionale tra colleghi di consiglio regionale, coloro che hanno anche una visione, una geografia completa del territorio oristanese, quindi non solo della città di Oristano, per mettere le basi di un programma elettorale che possa chiaramente condividere la città di Oristano, Terralba, abbiamo anche un altro importante centro che va ad elezioni e tutta un'altra serie di amministrazioni che vanno al rinnovo dei consigli comunali e quindi del sindaco. Abbiamo posto delle basi e abbiamo detto noi insieme dobbiamo ripartire. E chiaramente siamo aperti poi al resto di eventuali liste civiche che si stanno formando e che fanno parte dell'attualità della città di Oristano e verifichiamo e verificare se loro sono in grado di supportare quello che è il nostro programma, così come dicevo prima, con molta umiltà, con molta onestà, con molta serietà, solo ed esclusivamente per il bene della città di Oristano, senza interessi personali. Ma il riferimento a questo qualcuno che fa fuga in avanti? Ma non lo so, ogni tanto capita che qualcuno si sente leader, può capitare, può succedere, non è che fa parte anche questo dell'ambizione politica e della nostra attività. Io credo che questo invece debba essere messo da parte, assolutamente, è che bisogna essere tutti allo stesso livello, tutti uguali per poter ricostruire e poter ripartire e dare nuovamente uno slancio a una città che da troppo tempo oramai è morta. L'Udc ad Oristano, che lei sappia da chi è rappresentato, perché Udc e dei rinnovabili, prova nella lettera inviata anche oggi alla Regione, sembravano già aver chiuso un patto per i fatti loro, lei invece dice che a livello regionale lei dialoga con Gianni Tati, sembra che ci sia un po' di confusione in questo momento. Ma non lo so, io non entro in casa ad altri e non so cosa succeda chiaramente all'interno dell'Udc, io dialogo con il consigliere regionale eletto nell'Udc, che si chiama Gianni Tati, quindi credo che questo sia pacifico, il rappresentante, il coordinatore, il segretario provinciale so che si chiama Giuliano Uras, quindi lui chiaramente rappresenterà la parte politica per quello che è sul territorio oristanese, per carità, poi altro francamente non lo so e non voglio aggiungere altro, perché onestamente non sono in grado di giudicarlo. Che dialoghino con una lista civica, ben venga, anche noi nel frattempo stiamo dialogando anche con delle altre liste civiche che vorranno partecipare a questo progetto, ripeto, un progetto per il bene e il rilancio della città, questo è fondamentale. E il profilo del candidato sindaco secondo voi quale deve essere? Ultimamente tra l'altro ci sono anche tantissimi sondaggi, insomma a livello nazionale, la figura del sindaco che deve avere determinati tipi di caratteristiche. Io credo che per fare il sindaco ci vuole innanzitutto un briciolo di preparazione, faccio sempre una battuta di paragone a livello calcistico, per poter giocare al calcio tutti siamo bravi a giocare a pallone, ma chiaramente giocare a determinati livelli bisogna essere bravi e quindi bisogna essere preparati. Lo stesso vale per il sindaco, non è pensabile che come è successo troppe volte che dal cilindro si possa tirar fuori chiunque e chiunque abbia le caratteristiche e la capacità di amministrare un ente locale e un comune tra l'altro difficile come quello di Oristano. Benvenga chiunque anche dalla società civile, l'importante è che abbia un briciolo e un minimo di preparazione amministrativa che possa permettergli poi di gestire tutta l'attività di un ente locale. E poi chiaramente deve avere una capacità di dialogo fondamentale, innanzitutto con i partner che partecipano a questo progetto, soprattutto con un consiglio comunale che deve essere costantemente e giornalmente messo al corrente di tutta l'attività che svolge la parte esecutiva, quindi sindaco e giunta. Generalmente questo non lo si fa quasi mai, è un aspetto difficilissimo, è una critica che si porta sempre avanti tutto il consiglio comunale da maggioranza a opposizione nei confronti di chi sta in giunta. Capisco che chi sta in giunta e il sindaco hanno quotidianamente degli impegni piuttosto importanti, però credo che anche quello sia un elemento di capacità e di bravura da parte di un sindaco riuscire a gestire entrambe le cose. L'altro aspetto che generalmente viene sempre messo da parte è quello della capacità anche di dialogo con tutta la struttura amministrativa del comune. Molto spesso si entra in contrasto con dirigenti, funzionari, molto spesso si fanno delle mosse solo disclusivamente perché qualcuno ha più una visione o si avvicina di più a quelle idee politiche rispetto ad un altro, senza invece in realtà prendere atto della capacità tecnica che ognuno, ogni dipendente ha. E se un sindaco è abbastanza pratico, veloce che è accorto, lascia da parte tutti questi meccanismi politici e invece si fa supportare da chi per anni e da anni ha la conoscenza dell'amministrazione pubblica e può sicuramente dare molto alla parte politica. Un altro aspetto che avevate sottolineato tempo fa e poi chiudiamo questo capitolo, nessuno che ha già corso per appunto, ho già avuto l'onore di essere candidato alla carica di sindaco. Sì, queste sono voci che chiaramente si rimbalzano nell'ambiente. È forse un modo, un metodo per mettere da parte già qualcuno che magari ha in mente di candidarsi o vuole già svolgere quel ruolo. Io lo ripeto, non credo che sia un problema legato a chi ha già corso o a chi ha già avuto aspirazioni di fare il sindaco. Significa che debba avere comunque quella capacità che ho appena spiegato prima, ma soprattutto credo che sia importante anche questo, che si renda conto che quando si diventa sindaco e si è in totale disponibilità della cittadinanza e non esistono giorni di vacanza, giorni di ferie, non esiste niente, esiste solo ed esclusivamente l'amministrazione comunale. Esiste l'attività quotidiana e l'attività extra, che è legata solo ed esclusivamente a quel tipo di ruolo e sarà un grandissimo sacrificio, questo uno lo deve sapere prima, di accettare di svolgere quel ruolo. Forza Italia nel territorio come sta? Forza Italia è sempre, Maduristano credo che ha sempre un ruolo abbastanza importante, è sempre comunque uno dei primi partiti, il fatto di numeri e quindi di voti. In questo momento stiamo organizzando e riorganizzandoci sul territorio, individuando, abbiamo già individuato innanzitutto il nuovo coordinamento cittadino della città di Oristano, dove ne fanno parte Carlo Cerrone, Francesco Pinna, Antonio Iatalese e chiaramente di diritto il consigliere comunale Andrea Luzzo. Questo è il coordinamento che abbiamo individuato per lavorare sulla città di Oristano. Sul territorio, oltre ad avere il mio vice vicario, che è Cristiano Carlos, il sindaco di Cabras, chiedo scusa, stiamo lavorando adesso per costituire anche tutto il resto dell'attività. Siamo però molto impegnati, ultimamente da settembre inizieremo con un'attività abbastanza importante e capillare, quella relativa al referendum sulla legge costituzionale e noi siamo chiaramente per il no. Passiamo alle tematiche invece regionali. Notizia anche questa di oggi, una dura lettera di Coldiretti e Confagricoltura Oristano che fa riferimento alle cartelle esattoriali emesse dal consorzio di bonifica. Cartelle esattoriali che ammontano un totale di 4 milioni e 365 mila euro. Si tratta per esattezza del conguaglio per il contributo utenza in rigua dal 2006 al 2008. Un provvedimento che, secondo Coldiretti e Confagricoltura, rischia di mettere definitivamente in ginocchio le imprese agricole del territorio. Si va incontro ad un autentico default, affermano i vertici delle organizzazioni agricole, con le aziende impossibilitate a corrispondere ai simili importi. Nelle scorse settimane è stato chiesto un incontro urgente col governatore della Sardegna, Francesco Pigliaru. È necessario, ribadiscono Coldiretti e Confagricoltura, che il faccia a faccia si svolga al più presto. Insomma, questa è una tematica che Oscar Kerchi, in qualità di ex assessore regionale l'agricoltura conosce bene, quindi possiamo commentare anche questa notizia, penso che lei sia dalla parte delle associazioni in questo caso. Ma sicuramente dalla parte delle associazioni, su questo non c'è dubbio, è una sorta di tormento che si ripete nel tempo e negli anni. Abbiamo cercato di cancellare questa situazione cercando, con dei contributi extra negli anni precedenti, di evitare che si emettessero delle cartelle di vecchia data, perché capiamo perfettamente quelle legate alle ultime annate agrarie, niente da dire, anche perché in quel caso abbiamo stabilito un tetto massimo per ettaro e quindi in quella circostanza oltre non è possibile arrivare. È stato fatto fino al 2013-2014, ogni anno al Consorzio di Bonifica di Oristano venivano erogati dei contributi straordinari proprio per evitare questo aspetto, dopo due anni e mezzo questi contributi non sono arrivati e chiaramente capisco la parte amministrativa del Consorzio è legata a dover recuperare somme che noi speravamo e pensavamo di aver già dimenticato. Ogni tanto ci sono dei proclami, viene fuori che si è risolto il problema di tirso 1, tirso 2, quindi il problema delle dighe, poi vieni a vedere, ti fai dare gli atti e non c'è assolutamente niente di concreto, perché non c'è proprio niente di concreto, se non una chiacchierata è un verbale dove si dice sì va bene, eventualmente procederemo in questo modo. Si parla tanto, si parla tantissimo, però poi in realtà di concreto francamente non c'è assolutamente niente. Ed è per questa ragione che anche stavolta mi schiero con le associazioni di categorie che hanno pienamente ragione. Anche stavolta perché in questi due anni e mezzo siamo esattamente a metà mandato, è giunta a Piglia, Rulè, non è mai stato tenero con l'attuale Assessore regionale all'agricoltura, Elisabetta Falchi, espressa tra l'altro rappresentante anche lei del territorio, come è successo a lei. Qualche volta sembrava quasi che il giudizio politico sfociasse in qualcosa di personale, addirittura, in questo momento qual è la situazione tra lei? Di personale assolutamente niente, io svolgo un ruolo politico e come tale mi comporto in tutta la mia attività, sempre molto schietto e anche molto diretto, così come sono stato criticato io quando svolgevo il ruolo di Assessore e mi sono giustificato per quelle che sono state le mie scelte, ho fatto la stessa cosa che un chi poi mi ha sostituito, cercando di dimostrare quali fossero gli errori commessi, però a volte, come dicevo prima, qualcuno è presuntuoso e non accetta nessun tipo di critica, quindi davvero niente di personale, di politico sì, tantissimo, errori su errori, scelte completamente sbagliate, io non lo metto in dubbio che ci sia davvero da parte dell'attuale Assessore un grande tentativo, un grande lavoro per cercare di risolvere dei grandi problemi della situazione agricola sarda, in realtà però mi sembra che si stia sbattendo contro un muro, forse proprio per quel problema che dicevo prima, la preparazione politica è necessaria ed è fondamentale, non si può essere solo tecnici o imprenditori agricoli per poter svolgere il ruolo di Assessore regionale, Assessore regionale è un ruolo politico davvero importante che necessita di preparazione, di conoscenza, ma soprattutto di capacità che non tutti possono avere e come calciatore. Sede dell'ASL unica, se ne è parlato tanto, doveva essere ristano e sarà a Sassari, patto per la Sardegna, lei stesso con un'interpellanza ha chiesto i motivi per cui alla provincia di Oristano sono andate risorse, andranno risorse così esigue, in realtà il suo collega dell'APD Mario Tenda si ha detto che così non sarà, insomma in generale si tratta di un territorio sempre più bistrattato, perché a Cagliari non si riesce a fare sintesi anche tra consiglieri regionali del territorio a prescindere dalle appartenenze politiche? Ma io questo ancora oggi, dopo tanti anni di appartenenza politica e quindi di ruolo di consigliere regionale, francamente non l'ho ancora capito, ci sono altre province dove invece riescono tutto sommato, anche in gran segreto, a mettersi d'accordo e a trovare soluzioni, io qui posso lanciare solo un massaggio, un appello agli altri miei colleghi, proviamo davvero una volta per tutte a sederci e ad individuare quali sono veramente lì interessi e le necessità di questa provincia e in questo modo forse riusciremo a trovare delle soluzioni. E' chiaro che però quando poi sento che sul patto Sardegna non è vero, forse ci saranno eventuali risorse e questo rischia di essere ancora una volta un tentativo di nascondere quello che è la realtà, di proteggere la propria parte politica senza avere il coraggio di attaccarla, dal momento in cui ci si rende conto che per Ulistano, perché queste sono le slide ufficiali che ci sono state consegnate a tutti i consiglieri regionali, come è stata consegnata a me credo anche agli altri consiglieri della maggioranza e non c'è assolutamente niente sulla provincia di Ulistano, non c'è nessun tipo, non ne parla praticamente, non c'è proprio una riga, se non per quella famosa strada Sindia-Suni dove fino a qualche giorno fa ero convinto che fosse la circonvalazione da Suni, da Sindia che porta a Suni, in realtà non è neanche quella, quindi non sistema neanche quella, ma è una vecchia strada progettata forse 20 anni fa, che chissà da dove erano tirata fuori, da quale cilindro, da qualche archivio dell'assessorato dei lavori pubblici, senza sapere esattamente di che cosa fosse quel tratto di strada, è un'altra ulteriore circonvalazione che da Suni poi va verso la strada di Bosa, adesso la discesa. C'è un consigliere regionale del territorio. Probabilmente avrà pensato che fosse quella, una delle soluzioni più importanti per la provincia di Ulistano. Quando capitano queste cose, quindi quando si tenta di nascondere quello che succede all'interno della propria maggioranza, lo stesso vale per quanto riguarda la sede ASL, la sede ASL platealmente tutti i consiglieri della provincia di Ulistano avrebbero dovuto dire no a quella terribile, oscena legge di riforma sulle ASL. Allora lì ci sarebbe stata davvero una situazione chiara, diretta, palese, dove si vuole dimostrare che si vuole il proprio bene della propria provincia e di chi ci ha eletto. Altrimenti i cittadini che ci hanno eletto continueranno a dirci, facendo confusione tra maggioranza e opposizione senza capire le differenze del ruolo, che nessuno di noi è in grado di svolgere questo ruolo e addirittura alcuni ci chiedono di andarcene a casa prima del tempo. Allora, sempre in qualità di assessore regionale dell'agricoltura avrà conosciuto, probabilmente la conosceva già, ma probabilmente l'avrà anche visitata in qualità di assessore regionale, una grande azienda che sede a Terralba e a San Nicolò d'Arcidano, ovvero la cooperativa agricola campidanese. Un'azienda importante del territorio che spesso organizza eventi che parlano di solidarietà, oppure in nome della solidarietà per meglio dire, tra questi quello in programma domani all'eventi a Terralba, ovvero il Gavina Summer Music, l'evento appunto organizzato dalla OP agricola campidanese giunto alla sua seconda edizione. Protagonista dell'evento la musica pop rock e reggae, ma anche la beneficenza, come abbiamo già detto. Sentiamo dall'amministratore Salvatore Lota di che cosa si tratta. Il Gavina Summer Music 2016 è il secondo anno che noi organizziamo una giornata di musica, una giornata di incontro tra l'azienda agricola campidanese, l'Orto dell'Onora, Gavina e il territorio. È una giornata dove noi presentiamo tutto ciò che noi facciamo durante l'anno e raccontiamo chi siamo. Noi siamo un'azienda che è molto attenta anche al sociale, tutto ciò che succede intorno. L'anno scorso abbiamo sostenuto un progetto in Burundi, abbiamo acquistato un terreno per far sì che delle giovani madri e vedove si costituissero in cooperativa per imparare a coltivare. Quest'anno il progetto va avanti, abbiamo un progetto molto importante con la Lilt. I progetti sono due con loro. Uno finanzieremo in vari comuni che loro possono andare a fare screening per prevenzione. Seconda cosa, proprio la sala in alimentazione. E allora ricordiamo il Gavina Summer Music, quando? Il 12 agosto a Terralba con uno dei maggiori artisti reg del mondo, l'italiano naturalizzato giamaicano Alborosie e poi Nitro con Jack Tesmoter che sono due rapper nazionali ma bravissimi, Nitro ha vinto il disco d'oro quest'anno. E poi ci saranno degli artisti locali con la chiusura di un DJ set di un DJ di Cagliari che farà ballare le persone fino alle 3 del mattino. E quindi appuntamento al 12 agosto. Appuntamento tutti a Terralba a festeggiare con noi il secondo Gavina Summer Music. Ancora due notizie che riguardano il comune di Oristano. Acque agitate al centro Anziani per la chiusura decisa dal comitato di gestione dal 12 al 19 agosto. La decisione, la prima in sette anni di autogestione, ha provocato difficoltà e malumori tra i soci anche perché si ignora se la decisione è stata concordata con l'assessorato comunale e i servizi sociali così come previsto dall'articolo 1 della Convenzione in atto. Anche le imprese, le scuole e gli studenti oristanesi potranno usufruire del nuovo registro nazionale per l'aternanza scuola-lavoro. A sostenere l'iniziativa la Camera di Commercio di Oristano nell'ambito di un'intesa con i ministeri competenti che nei giorni scorsi ha portato alla pubblicazione della piattaforma online scuolalavoro.registroimprese.it. Si tratta di un grande database progettato per agevolare i percorsi scolastici e occupazionali obbligatori previsti dalla nuova normativa. L'iter si deve svolgere nel secondo bienio e nell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado. La durata complessiva è di almeno 400 ore per gli istituti tecnici e professionali e di almeno 200 ore per i licei. Era l'ultima notizia del tolegiornale odierno. Noi ringraziamo ancora una volta il consigliere regionale di Forza Italia Oscar Kerchi per averci fatto compagnia. Grazie a voi. E grazie ovviamente anche a quanti ci hanno seguito da casa. Appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.